Secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera, il PD sarebbe il primo partito nelle intenzioni di voto dei cittadini seguito da Lega e da Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni, invece, sarebbe seconda in termini di gradimento dei leader politici preceduta solo da Giuseppe Conte. Un secondo sondaggio Ipsos, inoltre, rivela che la maggioranza degli italiani non vorrebbe Silvio Berlusconi come prossimo presidente della Repubblica. Se si andasse a votare oggi, il primo partito in Italia sarebbe il PD che dopo le elezioni amministrative è in cima alle intenzioni di voto degli italiani. Lo rivela il sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera che consegna un podio in cui i Fratelli d'Italia sarebbe solo al terzo posto, mentre la Lega di Matteo Salvini, per quanto in calo, sarebbe la seconda forza politica dopo il PD. I dati, inoltre, rivelano che il livello di astensione sarebbe ancora molto alto con il 40,9% di cittadini che non saprebbero quale lista votare o non si reccherebbero in cabina. Da un altro sondaggio Ipsos per i TV Movie, invece, emerge che in vista della partita per il Quirinale, la maggioranza degli italiani non vorrebbero Silvio Berlusconi alla presidenza della Repubblica e preferirebbero che Mario Draghi restasse presidente del Consiglio dei Ministri. Analizzando l'impatto delle elezioni amministrative da poco concluse sulle intenzioni di voto dei cittadini, il sondaggio Ipsos rispecchia il forte calo di affluenza dell'ultima tornata elettorale, con il 40,9% di cittadini che sono indecisi o si asperrebbero se si votasse oggi per le politiche. Sul fronte degli schieramenti, invece, l'esito positivo che il centrosinistra ha ottenuto alle comunali premierebbe il PD che risulta il primo partito dato al 20,7% seguito da Lega al 20% e da Fratelli d'Italia al 18,8%. Mentre quest'ultimo si manterrebbe stabile in termini di intenzioni di voto, il sondaggio registra un calo dello 0,5% per il partito di Matteo Salvini rispetto a settembre. A perdere qualcosa dopo le elezioni nei comuni sarebbero anche il Movimento 5 Stelle e Forza Italia che si fermano rispettivamente al 16,5% e o l'8%. Grazie per la visione!